Salve a tutti, oggi sono felicissimo di avere una eminente ospite qui con noi. Parlo della dottoressa Elena Pian, Senior Astronomer, ovvero Dirigente di Ricerca presso l'INAF, che è l'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna. Benvenuta dottoressa e grazie ancora per aver accettato l'invito. Grazie a lei, professor Durante, è un piacere e un onore. L'onore è mio, professoressa dottoressa. La dottoressa è una laureata in fisica, ha un dottorato in astrofisica e come tantissimi di voi probabilmente sanno io adoro l'astrofisica e quindi parlo subito con lei di un argomento che mi sta molto a cuore, l'impatto delle onde gravitazionali. Ce ne può parlare, dottoressa, lei ha fatto tantissime ricerche appunto sulle onde gravitazionali, Time in Domain Astronomy, Supernova Gamma Ray Breast, ma vorrei cominciare se per lei va bene appunto dell'impatto delle onde gravitazionali. L'impatto scientifico delle onde gravitazionali è chiaro a tutti, diciamo sono l'ultimo, la scoperta, la rivelazione delle onde diretta, delle onde gravitazionali ha rappresentato come è noto l'ultimo test della teoria della relatività generale che è stata formulata da Einstein un secolo fa, anzi la prima rivelazione delle onde gravitazionali ha avuto luogo nel settembre 2015 e cioè esattamente un secolo dopo la pubblicazione della teoria. Naturalmente essendo, si tratta di un fenomeno di radiazione gravitazionale appunto, cioè una radiazione che viene dall'increspatura dello spazio-tempo, che si propaga nello spazio-tempo a causa dell'accelerazione di oggetti molto massicchi, molto pesanti e molto densi. Le onde gravitazionali vengono prodotte da tutti i corpi in movimento, però hanno un'ampiezza minima. Per cui la rivelazione è possibile soltanto se gli oggetti che si muovono sono oggetti molto massicci, molto densi, cioè primariamente stelle di neutroni e buchi neri. Quando si parla di stelle di neutroni e buchi neri naturalmente si apre tutto lo scenario immenso dell'astrofisica ed è per questo motivo che le onde gravitazionali sono importanti, cioè uniscono, connettono campi astrofisici e coinvolgono stelle di neutroni e buchi neri con la fisica stessa della gravitazione. Per questo l'impatto scientifico quindi delle onde gravitazionali è proprio questo, cioè di unificare, per così dire, due ambienti, due modi di vedere, diversi. Due, sì, due punti di vista sull'universo diversi. È un credo unione oltre all'astronomia, tra l'astrofisica e la fisica gravitazionale, la fisica propriamente detta. Dal punto di vista non scientifico, cioè spesso la domanda che si pone è l'impatto delle onde gravitazionali, ma l'impatto sulla vita di tutti i giorni. Qual è l'impatto? Perché dobbiamo studiare le onde gravitazionali? Quale importanza rivestono nella vita del cittadino, nella vita dell'uomo o della donna comuni? L'indotto, ciò che è interessante, è ovvio che l'onda gravitazionale, visto che ci abbiamo messo un secolo a rivelarle, è di una difficoltà estrema. Quindi è chiaro che a causa della minima ampiezza, come dicevo, sì che non influiscono in modo significativo sulle nostre vite. Per esempio i raggi cosmici sono un fenomeno fisico che influisce sulle nostre vite molto di più delle onde gravitazionali, tant'è vero che se non esistesse un'atmosfera, una spessa atmosfera sopra le nostre teste, a causa dei raggi cosmici e di altre cose, radiazione X, radiazione gamma, non potremmo nemmeno vivere. La vita non si sarebbe nemmeno sviluppata. Ecco, le onde gravitazionali non hanno questo tipo di impatto sulla nostra vita. Diciamo, ci percorrono, ci attraversano indisturbate, lasciando indisturbate noi e se stesse. Però ciò che è interessante delle onde gravitazionali sono i metodi di rivelazione, cioè tutta quella tecnologia che sta dietro la rivelazione dell'onda gravitazionale ed è quella branca della, diciamo, della tecnica che si ripercuote sulla fisica, cioè che impone che la fisica e quindi la tecnologia si migliorino, diventino sempre più sofisticate, appunto per permettere una rivelazione sempre più sofisticata di questi segnali. Questo significa avere, per esempio, degli specchi, gli specchi negli interferometri servono per riflettere i raggi laser che poi servono per la rivelazione. Ecco, la politura di questi specchi, la lavorazione di questi specchi è una cosa che tecnologicamente poi si ripercuote su aspetti, sull'utilizzo di questi specchi anche nelle necessità, nella confezione, diciamo, nella preparazione di strumenti che servono poi per l'uso più comune. I laser stessi, ecco, si usano, si utilizzano i laser in moltissimi campi, inclusa la medicina, l'ottica, in moltissimi campi della vita quotidiana, quindi il perfezionamento del funzionamento dei laser, che sono fondamentali per la rivelazione delle onde gravitazionali, è molto importante. Poi naturalmente si va anche la fisica atmosferica, l'atmosfera stessa, le perturbazioni atmosferiche, influiscono negativamente sulla rivelazione delle onde gravitazionali, per cui è necessario, quando si studiano le onde gravitazionali, avere una comprensione molto accurata dell'atmosfera, dei fenomeni atmosferici che avvengono nelle vicinanze, per cui è importante anche per questo. È importante, ad esempio, adesso si sta, c'è un rivelatore, il nuovo rivelatore di futura generazione per le onde gravitazionali, andrà sottoterra, il famoso Einstein telescope, è un interferometro che andrà costruito sottoterra, quindi questo implica anche il perfezionamento di tutta una serie di tecniche per la perforazione, la trivellazione. Tutto ciò, inoltre, dà anche lavoro e competenza e conoscenza a tutti i team molto numerosi che sono coinvolti nella costruzione, nella realizzazione di queste opere. Quindi le onde gravitazionali portano con sé un insieme di conoscenze e favoriscono il progresso di un insieme di conoscenze che non si limitano assolutamente alla fisica o all'astrofisica e hanno ricadute molto importanti sulle nostre vite. Esatto, ma non solo appunto economico, anche geografico, politico, perché diventa un motivo di coesione anche tra i diversi paesi e quindi anche le diverse ideologie, perché ci sono scienziati da tutto il mondo che cooperano insieme per appunto le onde gravitazionali ma per tutto ciò che appunto lei ha detto poc'anzi. Io pensavo nel frattempo appunto che le citava i laser, eccetera, i nostri studenti sono abituati a lavorare appunto con l'ottica, con la fotonica, noi stessi abbiamo un laboratorio di fibriottiche che mi sta molto molto caro. Quindi ecco perché è importante che l'Italia abbia tecnici che possano appunto andare a lavorare anche in questo settore. Ma dottoressa, lei poco fa citava appunto diversi fenomeni. Io volevo soffermarvi un attimo, se per lei va bene, sull'importanza del time in domain astronomy. Perché è così tanto importante, così tanto cruciale appunto per la comprensione dell'universo il time in domain astronomy? Magari lo spieghiamo in parole semplici per i nostri ascoltatori. Time in domain astronomy è una dicitura, un termine che è stato coniato relativamente di recente, alcuni anni fa, appunto per comprendere tutti quei fenomeni relativi alla variabilità di tutti i tipi. Ci sono la variabilità, parlare di variabilità in astrofisica significa toccare ambienti diversissimi che vanno dal sole al confine dell'universo. E naturalmente in modi diversi, è chiaro. Cioè per sorgenti variabili si intendono anche certi corpi, i corpi celesti del sistema planetario, per esempio gli asteroidi sono sorgenti eminentemente variabili. Non tanto perché variano la loro luminosità intrinseca, quanto perché si muovono, hanno traiettorie e talvolta traiettorie che possono anche risultare pericolose per la nostra stessa sopravvivenza e quindi è necessario, esistono team che monitorano il comportamento di questi asteroidi, di queste sorgenti per seguirli e per controllarli. Sono variabili tutti i corpi minori del sistema celeste, è variabile il sole come sappiamo e tant'è che la variabilità del sole, i brillamenti, le variazioni, i cambiamenti delle condizioni della corona solare hanno ripercussioni anche sulla nostra stessa atmosfera, sulla nostra vita. La variabilità più propriamente, più intrinsecamente sentita, definita in modo più intrinseco, è invece la variabilità di quelle sorgenti che variano proprio di luminosità tipo le stelle e come il sole d'altra parte. Così come il sole manifesta variazioni, fenomeni, coronali e così succede anche per le stelle che gli somigliano, per le stelle piccole che hanno, possono variare e hanno infatti corone che emettono dal radio fino all'X, fino ai raggi X e naturalmente anche le stelle più massifiche, anche quelle sono variabili, hanno dei brillamenti, hanno dei venti stellari molto importanti che interagiscono con il mezzo circunstellare e producono fenomeni di variabilità. Ci sono eruzioni stellari, come per esempio la famosa Eta Carine. Eta Carine è una stella, appunto la stella Eta della costellazione della Carena, che è la stella più famosa, una delle più massicce della nostra Via Lattea, in realtà sono due stelle, un sistema binario, che ha appunto questi fenomeni eruttivi e poi viene emessa in grandissime quantità in modo non periodico, materia e radiazione. E sono importanti appunto perché, siccome sappiamo che è un sistema binario, permettono di capire qual è come due stelle massicce in un sistema binario si influenzano reciprocamente. Poi c'è tutta la variabilità. Tra l'altro le stelle massicce hanno la caratteristica di vivere molto poco, diciamo hanno vite molto brevi, solo come le stelle del rock, no? Le stelle massicce. They live fast and die young. Vivono velocemente e muoiono giovani. E muoiono in modo estremamente spettacolare perché le stelle che sono più massicce di 8-10 masse solari sono quelle che sono responsabili delle esplosioni di supernova che sono fenomeni estremamente drammatici estremamente luminosi e le vediamo da, riusciamo a vedere, arriva supernova anche da distanze molto notevoli del cosmo e sono appunto queste, è di queste sorgenti che mi sono molto occupata durante la mia carriera perché alcune di queste, non tutte, alcune non sappiamo quali, per quale motivo, che cosa che sia esattamente nel loro pedigree, di alcune, di una minoranza di queste, sono capaci, hanno l'abilità di creare anche un vetto relativistico, cioè una eiezione di materia molto direzionale e questa materia è un plasma, è tutta materia ionizzata che si muove a velocità vicine, molto vicine a quelle della luce ed è quello che chiamiamo il gamma ray burst. Appunto, gamma ray burst è di fatto un getto stellare che vediamo, naturalmente noi lo vediamo come gamma ray burst, lo vediamo in radiazione, lo si rivela in radiazione gamma perché c'è un effetto relativistico, è un effetto di relatività speciale, di aberrazione, forte aberrazione della luce quando un plasma si muove a velocità molto alte e quasi lungo la nostra linea di vista o ad angoli molto piccoli, in più di 5 gradi rispetto alla nostra linea di vista, i fenomeni di aberrazione relativistica fanno sì che la radiazione sia spostata verso il blu, c'è un effetto di blu shift per cui viene favorito la rivelazione del gamma e poi la luminosità viene aumentata relativisticamente è più alta di quella intrinseca, la vediamo più alta di quella intrinseca. Quindi riusciamo a rivelare queste sorgenti come sorgenti molto brillanti e con questi gamma ray burst solo le sorgenti, essendo così brillanti, così luminosi, così tanti luminosi, riusciamo a vederli. Quasi detti corti, sub-second, ci sono due tipi, di gamma ray burst, quelli lunghi che sono effettivamente emessi dalle supernove, sono creati dalle supernove. Poi ci sono quelli corti, cioè di durata di qualche secondo, inferiore al secondo, quelli sono dovuti alla coalescenza di due stelle di neutroni o di una stella di neutroni e un luco nero e quindi producono questi gamma ray burst corti, non solo molto luminosi, molto interessanti, ma producono solo simultanei, avvengono simultaneamente a emissione di onde gravitazioni. Tutto già molto interessante perché fra l'altro si riallaccia, pensi un po' al primo podcast che io ho fatto ormai più di un anno fa, non hanno fatto più di 100 podcasts e il primo podcast era proprio su questa gamma ray burst del quale lei ci ha parlato, quindi per me ricominciare nuovamente quest'anno e parlare nuovamente di questo fenomeno è veramente entusiasmante. Ma le volevo chiedere, io ho visto che appunto ha conseguito il dottorato in astrofisica con una carriera pazzesca ricca di successi e scoperte incredibili, però ho visto anche che in realtà lei ha insegnato matematica. Ho insegnato anche un po' di fisica subito ancora, subito dopo laureata insegnai matematica e fisica per un paio di mesi al liceo classico della mia città natale, cioè lo stesso liceo dove io stessa ero stata studentessa. Cos'è rimasto? Cos'è rimasto di questo insegnamento? Dopodiché anni dopo insegnai per un intero anno scolastico anche matematica al liceo scientifico. allora a me devo dire la verità sarò molto sincera a me insegnare piace tantissimo a tutti i livelli a tutti i ragazzi di qualsiasi età è molto bello è bello il trasmettere quello che mi è rimasto mi piace molto il rapporto con i ragazzi perché i ragazzi i giovani sono sempre interessanti sono puri e aperti al mondo alle scoperte all'interazione con questo mondo nel quale avranno tutta la vita davanti per sviluppare la loro vita la loro carriera e mi piace dare poter dire di aver dato un contributo a indirizzare l'indirizzamento di queste carriere anche se poi magari non fanno non si occuperanno né di matematica né di fisica né di scienza però voglio desidero e mi piace molto quando mi rendo conto che qualche cosa del mio insegnamento scientifico è rimasto ha contribuito alla creazione di una personalità quello spero sicuramente sarà stato così per lei io spero che sarà in minima parte anche per il mio lavoro dottoressa ma ho visto che si è occupata veramente di tantissimi rimarrei ora qui a parlare di fenomeni di astrofisica con lei però le voglio chiedere in realtà appunto ai nostri studenti quali sono i consigli che lei potrebbe dare a questi giovani scienziati alle nostre studentesse che tanto ne abbiamo bisogno pochissime abbiamo visto che sono delle ragazze che si dedicano alle carriere STEM quindi quale consigli lei potrebbe dare a questi studenti a queste studentesse che vogliono intraprendere una carriera nell'astrofisica o nella ricerca appunto astronomica allora naturalmente il mio consiglio è sempre quello all'inizio lavorare studiare bene studiare molto lavorare molto imparare dare a se stessi il rigore della logica il rigore dello studio quello non deve mai mancare perché poi queste carriere questo tipo di carriere lo richiedono presto o tardi le persone che decidono di fare gli scienziati si trovano di fronte alla necessità di fronte alla consapevolezza che è soltanto il rigore e la capacità di lavorare con buoni risultati e soprattutto corretti è importante diceva Marie Curie noi non dobbiamo fare errori ovviamente tutti fanno errori è umano errare però è importante educare se stessi e questo naturalmente è importante la figura dell'insegnante naturalmente in questo l'insegnante deve abituare il ragazzo il giovane a non fare ad essere preciso e corretto e più accurato possibile o accurata possibile nelle proprie affermazioni nel presentare i propri risultati questo è importante lavorare duro e cercare di essere sempre accurati nel proprio lavoro poi naturalmente avere una mente aperta cioè sconsiglio ecco di fissarsi con certe cose a me piacciono diffido un po' di quelle persone che dicono a me piacciono soltanto i nuclei galattici attivi e odio le binarie X ecco questo questo atteggiamento secondo me non è corretto non è giusto perché in astrofisica è tutto collegato per cui consiglio di mantenere una mente aperta naturalmente ci sarà una scelta del campo di lavoro del campo di ricerca ma consiglierei di essere di cercare di amare tutto ciò che in una carriera astrofisica capita sul nostro cammino e quindi svolgere un lavoro scegliere un lavoro di ricerca un lavoro di tesi e poi di ricerca a seconda sì delle proprie preferenze ma senza disdegnare avendo sempre avendo in mente quali sono i problemi importanti non scelgo a priori una cosa perché mi suona carina decidere capire e decidere quali sono i problemi importanti da risolvere in astrofisica e sceglierne uno una cosa in cui possiamo dare un contributo perché è una cosa pionieristica infatti a tal proposito visto che appunto stiamo in realtà muovendo quasi i primi passi no perché abbiamo così tante avete così tante scoperte da fare di eventi astrofisici che si spera che avvengono secondo lei appunto quali sono le aree di ricerca quelle più promettenti appunto con gli eventi astrofisici più attendibili cosa si aspetta di rilevante nei prossimi anni allora direi che i campi i campi di ricerca importanti sono sicuramente allora ce ne sono tre che vanno per se mi si passa l'espressione vanno di moda che significa che sono importanti perché si prevede di poter fare delle scoperte importanti una è la cosmologia cioè i redshift altissimi che per esempio il motivo per cui il James Webb Space Telescope è stato lanciato è proprio quello di è un telescopio che ha strumenti tutti sensibili nell'infrarosso perché naturalmente quando si va a grandissime distanze la luce che arriva dalle sorgenti molto distanti è tutta nell'infrarosso l'ottico non si vede più perché è stato per effetto Doppler spostato verso l'infrarosso quindi per studiare l'universo lontanissimo è necessario uno strumento infrarosso che sia anche molto sensibile perché vede le sorgenti più distanti e qui abbiamo il James Webb quindi a mio parere James Webb farà tantissime scoperte cosmologiche molto importanti e quindi va a studiare va a scoprire va a descrivere tutto ciò che accade agli ai redscist agli z maggiori di 10 cioè lì dove sta avvenendo praticamente la trasformazione dell'universo primordiale nell'universo un po' più come lo conosciamo noi i primi stessi tra lì infanti e l'adolescenza dell'universo ecco questa parte questa fase della vita dell'universo è quasi completamente sconosciuta e lì ci sarà molto progresso poi c'è la time domain astronomi naturalmente la variabilità cioè lo studio appunto di tutto ho fatto un esempio prima ho descritto i gamma redorst ma naturalmente ci sono i quasar le galassie attive il comportamento di queste sorgenti che cosa determina l'attività di un centro galattico come fa il buco nero centrale trasformare materie in radiazione e soprattutto perché questa radiazione varia come mai vediamo così alte variabilità dai nuclei centrali delle galassie che cos'è che produce i gamma redorst stessi cioè come fanno queste super nove a fare questi getti queste coadecenze di stelle di neutroni come producono loro stesse un getto relativistico che cosa accelera e qui andiamo un pochettino nell'aspetto diciamo al confine tra astrofisica e astroparticelle che cos'è che accelera i raggi cosmici che naturalmente influenzano tutta la nostra vita quotidiana gli astronomi fanno delle immagini fanno le osservazioni prendono le immagini con i loro CCD questi CCD sono pieni di difetti e questi difetti sono del 99% sono dei raggi cosmici ecco questi raggi cosmici che tanto danno fastidio dalla nostra vita quotidiana come fanno esser prodotti chi produce come vengono accelerati come vengono accelerati come vengono prodotti come si originano i neutrini i neutrini di altissima energia come vengono prodotti quali sono i fenomeni fisici che da qui scaturiscono anche loro sono prodotti da nuclei galattici attivi da sorgenti altamente variabili ecco tutta questa tutta questa branca della variabilità del time domain astronomi che sconfina spesso e volentieri nell'astrosisica delle particelle anche questa avrà un grandissimo sviluppo perché beneficerà della sinergia tra telescopi tra gli sforzi degli astronomi e gli interferometri gli strumenti dei fisici della terra infine il terzo il terzo ambiente il terzo topic in cui ci sarà grande a mio parere grande sviluppo grande progresso è quello dei pianeti extrasolari e che naturalmente già conosciamo molto bene ci sono alcune migliaia di pianeti extrasolari già scoperti già conosciuti ma naturalmente non sappiamo quasi niente di loro cioè che cosa li diversifica come qual è stata la loro storia e quale può essere il progresso la formazione le condizioni che favoriscono la formazione della vita su questi pianeti anche lì è necessario avere strumenti come i james web cioè molto sensibili nell'infrarosso che è la banda in cui le molecole emettono le transizioni molecolari vengono emettono luce vengono rivellate quindi io direi queste tre queste tre pianeti extrasolari variabilità e cosmologie sono tantissimi gli interrogativi io negli ultimi podcast appunto ho parlato tantissimo del james webb telescope perché ci sta regalando veramente tanto e spero tanto che regalerà ancora tanto altro alla ricerca io la ringrazio tantissimo dottoressa è stata veramente illuminante ci faccio sapere se abbiamo novità dal cosmo noi siamo sempre qui pronti ad ascoltare grazie grazie molto grazie ancora di tutto e speriamo di sentirci presto per delle belle news grazie a lei professore e tanti auguri sia a lei che a tutti i giovani studenti grazie grazie ancora arrivederci arrivederci